Gentili telespettatori, buona giornata, come vi avevo ampiamente preannunciato, arrivano sull'aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, arrivano i giudici perché Sala, che il sindaco di Milano dice pronti a fare ricorso al TAR con i comuni del Varesotto. Il sindaco di Somma Lombardo, Salvini, rimette la decisione alle amministrazioni del territorio, ma non è la decisione delle amministrazioni del territorio, c'è una legge del 1928 che dice chiaramente che non si può intitolare un luogo pubblico a una persona se non è scomparsa da almeno 10 anni, quindi è illegale, quindi non è che i comuni del Varesotto devono dire sì o no o metterci un altro nome, è illegale, questa è la realtà, quindi il TAR non andrà a vedere se devono essere i comuni del Varesotto a intitolare l'aeroporto, a dire sì o no, ma il TAR rileverà che è illegale perché la legge non lo permette. Questo è il punto, non i comuni del Varesotto. Ma Sala dice adesso che fanno ricorso noi ci associeremo, faranno ricorso al TAR del Tribunale. E così l'aeroporto farotta adesso, atterrerà in Tribunale. Giovedì il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto che guarda con interesse quello che stanno facendo gli altri nove comuni che insistono sul territorio del Lab Varesino. Persilvio Berlusconi non aveva gradito l'intitolazione dicendo che non erano né i modi né i tempi e lui dice Sala non replico, è una sua opinione che rispetto, non ho da dire, non voglio personalizzare questa faccenda, voglio stabilire un principio politico perché fare politica significa occuparsi della città, del traffico e delle buche e di questioni che sono rilevanti. E poi si parla del presidente Enac e di Salvini. Sembrerebbe che sulla questione malpensa Berlusconi si stia avvicinando alla verità, scrive Sala. La famiglia non ne sapeva nulla. Ma Sala perché? La famiglia decide se intitolare l'aeroporto o no a Silvio Berlusconi? Se dobbiamo fare a Milano, non lo so, spostare piazza Garibaldi andiamo a chiedere agli eredi di Garibaldi? Se vogliamo fare piazza Matteotti andiamo a chiedere agli eredi di Matteotti? Se vogliamo fare, intitolare una via a un partigiano andiamo a cercare gli eredi del partigiano se ci sono per chiedergli se loro sono d'accordo a mettere una via? Ecco, insomma, adesso in questo momento mi viene in mente il nome di Enzo Ferrari. Ecco, Enzo Ferrari è già morto da diverso tempo, potrebbe avere intitolato una piazza, una via, anche un aeroporto, l'aeroporto Enzo Ferrari. Vabbè, a parte questo, se si vuole fare una cosa del genere bisogna andare a chiedere agli eredi di Enzo Ferrari se sono d'accordo. Quindi, quando si dice che non è stato chiesto alla famiglia Berlusconi se erano d'accordo per intitolare l'aeroporto, mi sembra una roba che non sta né in cielo né in terra, ma che paese siamo? Che vai a chiedere al ricchissimo imprenditore se ne è d'accordo a intitolare l'aeroporto a suo padre? Ma dai, ma insomma, ma a che livello siamo arrivati? Capisco che il denaro comanda sulla politica, lo sappiamo perfettamente che oggi imprese e soldi comandano sulla politica, non è la politica che comanda su imprese e soldi. Però a questo livello, proprio nel dirlo, la famiglia non è stata interpellata, è veramente fuori da ogni logica. Poi dice Sala che il ministro, di riferimento più o meno pure, dice che non ne sapeva nulla, vabbè Salvini non ne sapeva nulla, lasciamo perdere. Perché Salvini dice non ho seguito le procedure, intendo dire che non se ne è occupato, pur se una firma l'ha messa. Che cosa vuol dire? Che Salvini dice io non mi sono occupato delle procedure, ma è ovvio, nel senso se io vado a portare la macchina a fare il tagliando, io non mi occupo delle procedure del tagliando. Dire no, io ho portato la macchina, ma non ne so niente di quello che hanno fatto, le procedure non le ho viste. Come dire, intitoliamo l'aeroporto a Berlusconi, ma io non ho visto quando facevano le fotocopie, quando scrivevano le pratiche, ma che sciocchezza è? Vabbè, insomma. Quindi Salvini non ne sa nulla, però poi ha firmato l'aeroporto. Ecco. Poi dice Sala, l'ente gestore dell'aeroporto, SEA non è stato coinvolto, ancora a parlare di SEA, ENAC. Questa è una decisione politica. Il governo, i vertici del governo hanno deciso di chiamare l'aeroporto di Malpensa Silvio Berlusconi. Lasciate perdere la SEA, l'ENAC, i comuni. È una decisione politica. Decisione politica. E basta. È inutile andare a tirare in ballo gli enti. Quelli prendono ordini dal governo. ENAC, SEA prendono ordini dalla politica. È chiaro o no? Quindi cominciare a dire che l'ENAC ha fatto di testa sua, la SEA... Ma quale hanno fatto di testa loro? Ma state scherzando? Ma che film avete visto? Ma ce la fate? È la politica che ha dato ordini di chiamare l'aeroporto, no? Oppure il primo dirigente che passa da quelle parti, la mattina si sveglia, adesso chiamo Silvio Berlusconi l'aeroporto e tutti sì signore. Ma che film avete visto? Ma in che mondo vivete? Bah! Insomma, a questo punto, quindi la responsabilità dell'aeroporto Milano Malpensa Silvio Berlusconi sarebbe da debitare a, aspettate, a un solerte funzionario pubblico, il presidente di ENAC, che una mattina si è svegliato e è venuto in mente di cambiare il nome dell'aeroporto. Ma, ripeto, ma ce la fate? Ma siete connessi? Ecco. Poi Sala dice, lo ripito, intitolare un aeroporto così importante come Malpensa Berlusconi, il cui nome tra l'altro campeggia ancora nel simbolo di un partito è un atto profondamente politico e profondamente sbagliato. È un atto politico? Certo. Perché l'ha fatto il governo? Il governo l'ha fatto come quando la Meloni ha messo presidente del Senato la russa. Molti dicevano no, uno che ha il busto del dittatore in sala non puoi farlo presidente del Senato e la Meloni dice io faccio quello che voglio. Adesso che l'aeroporto Malpensa non sono d'accordo, l'opinione pubblica, il governo dice noi facciamo quello che ci pare. Chiaro? Alla fine non siete d'accordo sull'aeroporto? Bisogna vedere poi la decisione dei giudici. Quando andrete al governo la prima cosa che farete è cambiare il nome e lo chiamerete l'aeroporto Giuseppe Garibaldi. Arrivederci a tutti e grazie.